A un passaggio a livello lontano dal mondo, un giorno d'agosto assolato, un capostazione annoiato vide a un finestrino di un accelerato una signora bruna. E più non lavorò. Passava le serate a guardare la luna, e i treni si scontravano, ma lui non li sentiva. Prima o poi l'amore arriva.